Mi chiamo padre Michele Brambilla, sono di Pessano con Bornago in provincia di Milano, ho 43 anni e sono missionario del PIME, il Pontificio Istituto per le Missioni Estere, fondato nel 1850 da colui che è riconosciuto da tutti come nostro fondatore Monsignor Romazzotti, Vescovo di Pavia. Siamo presenti in Italia, in America, in Messico, in tutto il Brasile, in Thailandia, in Bangladesh, in India, in Cambogia, a Hong Kong, Cina, Giappone, Cameroon, Guinea-Bissau, Algeria, Costa d'Avorio, Papua Nubini. In questi paesi svolgiamo un lavoro di prima evangelizzazione e in molte missioni lavoriamo tra i tribali, quindi tra diverse etnie che stanno nello stesso paese, come per esempio il Bangladesh, dove sono io. Ci sono i bengalesi che sono la maggior parte, ma a molti, quasi 22 etnie, sono 22 popoli diversi. E svolgiamo il nostro lavoro di prima evangelizzazione accompagnato dalla promozione umana. L'entrata nel seminario, penso che sia del Pime, sia proprio anche un disegno di Dio. Fin da lontano 1986, nella mia parrocchia di Pessano, sono presenti i seminaristi del Pime. Molti di loro poi sono diventati anche sacerdoti e lavorano adesso in diverse parti del mondo. E quindi c'è stata una conoscenza del Pime fin dall'inizio. In casa eravamo soliti ricevere anche Mondo Missione, la famiglia del Pime, Italia Missionaria, proprio una rivista per adolescenti che ho sempre letto. E quindi mi ha sempre meravigliato, un po' affascinato anche questa avventura, che iniziavano ad andare fuori dal proprio paese, verso anche terre sconosciute. Io sono stato fortunato, perché prima di entrare in seminario, nel 1999 agosto, ho fatto un mese in terra di missione, proprio in Bangladesh, dove mi hanno mandato i miei superiori. I primi giorni lì in Bangladesh, quando ho fatto questa esperienza di giovani in missione, quindi dei giovani che si preparano per un anno per poi partire a fare un'esperienza di missione, ero ad H, nella capitale. Entrando a visitare una famiglia in quella che era la loro piccola casa di 3 metri per 3, mi sono sentito veramente a mio agio e lì ho capito che veramente la missione, non sapendo che era Bangladesh, era fatta per me. Dopo, diventando anche grande, con una certa anche maturità, si inizia anche un po' a cercare di capire il progetto di Dio sopra una persona, l'ho fatto anch'io, ed è stato anche naturale questo, che colui che mi ha accompagnato per primo, ma sentito le mie prime confessioni spirituali, sia stato appunto un padre del Pime. Con loro ho iniziato un cammino di discernimento, ho aperto tutto, anche ad essere diocesano piuttosto che fratello, ma dopo questo cammino di discernimento ho fatto la scelta di diventare sacerdote e missionario all'interno del Pime. E anche il seminario ho portato avanti, coltivato anche questa passione, e poi anche i racconti dei vari missionari che passavano per il seminario ci raccontavano la loro esperienza, i problemi, ma anche tantissime gioie che hanno vissuto hanno rafforzato in me la convinzione della chiamata del Signore per la missione. Al termine degli studi sono stato destinato in Bangladesh. L'arrivo in missione è stato studiare la lingua, una lingua dove ero proprio un bambino dall'asilo, ho dovuto imparare l'alfabeto perché non si utilizza quello romano, ma quello bengalese, e tutte le parole, anche i numeri totalmente diversi, una scrittura diversa. E quindi anche il rapporto con il Signore e con alcuni confratelli con cui mi confidavo mi hanno aiutato a passare questo primo anno della lingua, che è il primo scoglio per un missionario. In parrocchia io sono da solo come sacerdote, con me vivono tre suore dell'Immacolata, hanno il loro convento, e c'è una suora, la quarta suora, che ogni settimana viene per due giorni per condurre il dispensario. Poi all'interno della schiera della piccola famiglia c'è anche una cuoca e una ragazza che sono loro che si occupano un po' della casa. Io sono in una parrocchia nel nord del Bangladesh e le giornate dipendono dai programmi. Quando facciamo i programmi per l'avvento, per il mese missionario, la quaresima, per l'inaugurazione del nuovo anno, di solito esco la mezza giornata al mattino nei villaggi per la messa, confessioni e catechesi, e nel pomeriggio siedo in ufficio per pratiche di ufficio, ma anche per incontrare la gente per vedere certi bisogni. Altre volte invece passo la giornata in missione, quindi andando a visitare la scuola, parlando con il manager che dirige la missione, cerchiamo di programmare insieme, incontri anche con i catechisti. E poi per il mio piccolo cercò di aiutare anche la diocesi, svolgendo alcune attività in diocesi, quindi mi reco settimanalmente presso il vescovo per collaborare con lui alla crescita della nostra diocesi. Io devo dire che lavoro con una delle etnie che dicevo prima, in Mangra ci sono più di 20 etnie, io lavoro con quella Santal. Devo dire che il lavoro vero, grande, lo fanno i due catechisti a tempo pieno, che io mando settimanalmente nei villaggi, incontrano la gente, attualmente abbiamo nove villaggi catechumeni. Devo anche dire che la gente che chiede di diventare cristiana, attualmente tra i Santal, perché hanno i parenti che lo sono diventato. Vedono anche la bellezza della preghiera, delle liturgie, vedono anche qualcuno che viene lì, li segue, che è il prete, la suore, i catechisti, vedono che c'è una comunità che lavora insieme e anche loro vogliono entrare a farne parte. Principalmente sono anche i giovani, i giovani vedono che andando in missione si hanno anche più opportunità di fare esperienze, di conoscere tante nuove cose che rimanere al villaggio. Per quanto riguarda invece gente di una certa età, rimangono sempre tribali, alcuni vogliono cambiare, vogliono passare dalla religione animista, pagana, a quella cristiana e noi li accogliamo facendo con loro un cammino di quasi cinque anni prima di dare il battesimo. e la visita della gente è anche molto semplice, tranquilla, vivono solo di agricoltura, chi ha i terreni pianta i due raccolti di riso all'anno e da lì ricava il riso, poi lo vende per comprarsi vestiti e altri generi di prima necessità. Quindi molto semplice, qualcuno cerca di allevare anche una mucca piuttosto che una capra per venderla e poi anche lì avere qualche soldino per acquistarsi dei vestiti. E' come gente molto semplice nella zona in cui vivo io, non solo i nostri cristiani tribali, ma anche i bengalesi e anche gli hindù che nella mia zona sono con una buona densità. Ecco, la maggior parte sono musulmani, siamo al 90%, il 70% e il 7% sono hindù, mentre il 3% si dividono un po' tra animisti. I cristiani siamo sullo 0,7-8%, quindi su una popolazione di 160 milioni di abitanti, 500 mila sono cristiani, diciamo 400-450 mila cattolici, altri sono luterani, protestanti.